Tutti pazzi per la Regione Marche. C'è chi la sceglie per l'ottima qualità della vita e chi predilige il buon cibo e l'eccellenza delle sue strutture ricettive. Dai dati elaborati dalla ConfCommercio in collaborazione con l'Osservatorio dell'Economia del Turismo, presentati lunedì 23 ottobre in Senato, è emerso l'identikit del turista tipo che sceglie la nostra Regione per le proprie vacanze, che ha un'età compresa tra i 28 e i 52 anni ed è a caccia di relax e benessere. Ci siamo accorti di come il 70% del turista delle Marche è composto da due fasce generazionali, la generazione Y dai 42 ai 51 e la generazione X dai 28 ai 41. Questo significa che è una fascia di popolazione molto attiva, che cerca un turismo consapevole, profondo e ricco di esperienze. La sinergia tra la ConfCommercio e la Regione Marche ha come obiettivo quello di canalizzare i fondi del PNRR in arrivo per favorire la digitalizzazione e la riqualificazione dei borghi. Possiamo insieme al Governo nazionale e al Governo regionale cavalcare quelli che sono la disposizione di fondi sia per aumentare l'attrattività delle nostre strutture ricettive e ci sono dei fondi dedicati che il senatore De Poli nell'incontro ha promesso di poter mettere a disposizione già nella prima manovra finanziaria che è in discussione adesso alla Camera. E in più avremo la possibilità poi anche con la Regione di istituire dei bandi che dovranno essere messi a terra, che permetteranno alle nostre imprese di incrementare e dare più profondità all'offerta turistica relativa al benessere. Tra le proposte avanzate a Palazzo Madama c'era anche quella di dare ulteriore lustro alla nostra ristorazione, lanciando un'iniziativa che di sicuro farà gola ai tanti chef stellati presenti sul nostro territorio. Le Marche sono un'eccellenza in quanto a ristorazioni di qualità e perché no allora provare a prendere la cerimonia di consegna delle stelle Michelin e portarla in un territorio così ricettivo dal punto di vista del benessere legato a una ristorazione di qualità.